La rete di Ganci al 38esimo del primo tempo permette al Fasano di mettere insieme la terza vittoria di fila, condannando invece il Bitonto alla prima sconfitta. Dopo tre match in serie positiva, 1-0 il punteggio finale del Vito Curlo, partita giocata bene dai Bitontini nonostante il risultato, pesa l'errore al dischetto di Palazzo al 26esimo della ripresa. Nel primo tempo partono meglio i nero-verdi, allenati da Modesto e Santoruvo, al quinto lancio per Palazzo che ha spazio per calciare, sinistro debole, para l'azzar. Al sedicesimo Figliolia ci prova a giro da fuori, traiettoria alta, al diciottesimo ci riprova Palazzo, questa volta su punizione sfiorando l'incrocio dei pali, al ventinovesimo ancora Bitonto pericoloso, Palazzo serve Mollica che tutto solo può calciare a rete, conclusione però masticata. Al trentasettesimo si fa vedere per la prima volta il Fasano, azione in solitaria di Battista e conclusione parata da Diamè. Un minuto dopo i padroni casa mettono la freccia, Nelillo serve dal limite Ganci che non si fa pregare, calcia in porta, trovando il gol del vantaggio e 1-0 al Curlo, all'intervallo il Bitonto deve inseguire nonostante una buona prestazione. Ma la ripresa si apre con l'occasione per il raddoppio del Fasano, ripartenza, Battista viene fermato prima che possa concludere a botta sicura. Al ventiseiesimo l'episodio che può cambiare la partita, Obodo atterrato in aria da Brignola, calcio di rigore per il Bitonto, dagli 11 metri però Palazzo si fa imprenotizzare da Lazare che devia in angolo il destro dell'esperto taccante Bitontino. I neroverdi non ci stanno e al trentaduesimo si rendono ancora pericolosi, complice un pasticcio della difesa del Fasano, Palazzo ci prova addirittura in rovesciata, pallone sul fondo, nel finale Mengoli impegna così Diamè sul suo palo, nulla di fatto, finisce qui con la vittoria di misura dei fasanesi che conferma nel buon momento grazie ai risultati. Nel prossimo turno il team di Tiozzo sarà di scena rotonda, per il Bitonto c'è la sfida casalinga contro il Barletta.